Attilio Urciuolo, comunicazione e marketing, pubblicità offline e smartphone. Il terrore corre veloce lungo la galleria del Monte Pergola. Al termine del tunnel in direzione Salerno, sempre poco illuminato, l'assalto della banda di malvivente a una panda della Cosmopol a pochi chilometri da nucleo industriale di Solofra. Dopo aver cospasso l'asfalto di chiodi a tre punte per bloccare la circolazione dei veicoli, una Citroen C-Max con a bordo tre banditi incappucciati e armati ha affiancato l'auto in dotazione all'Istituto di Vigilanza Vellinese, obbligandola a non svoltare per Solofra. A bordo due vigilantes diretti nella città della Concia per prendere servizio presso un centro commerciale della zona. I rapinatori, pensando che sulla banda ci fosse un carico di denaro, hanno dapprima speronato l'auto, costringendola a fermarsi. Poi due dei banditi incappucciati e armati di Kalashnikov si sono avvicinati alla banda, l'hanno disarmato della pistola uno dei due e hanno infranto i vetri della vettura con il calcio dei fucili, sperando di mettere le mani sul malloppo. Ma la banda aveva sbagliato obiettivo, l'auto di servizio serviva solo ad accompagnare i due agenti della Cosmopol al lavoro. A bordo non vi era nessun forziere. Il blindato, vedendo in difficoltà i colleghi della banda, ha tamponato l'auto dai malviventi, che vistisi alle sette hanno aperto il fuoco, sparando con i Kalashnikov contro il mezzo della Cosmopol per intimidire vigilantes. Una raffica di colpi utilizzata dai rapinatori per farsi spazio e coprirsi la fuga. Nonostante l'auto speronata da blindato della Cosmopol, i tre malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce. Il tratto della superstrada è rimasto chiuso al traffico per ore. Numerosi veicoli rimasti inchiodati sull'asfalto. Sul posto gli agenti della postrada, gli uomini della scientifica, la scuota mobile che indaga sul caso. La viabilità è stata ripristinata a conclusione dell'intervento degli operai dell'ANAS, che hanno avuto un bel da fare per ripulire l'asfalto dai chiodi. Gli agenti di polizia intanto hanno acquisito delle immagini riprese dalla videosorveglianza installata sulla superstrada nel tentativo di identificare i rapinatori. Il 20 febbraio scorso all'altezza di Fisciano si registrò un altro assalto ai mezzi della Cosmopol. Anche in quel caso vennero esplosi i colpi di Kalashnikov. I banditi riuscirono a portare via la somma di 100.000 euro. Bande sempre più armate e agguerrite sulla strada dei blindati dell'Istituto di Vigilanza Vellinese. banditi pronti a tutto e che a volte sparano anche ad altezza uomo. Questa volta il piano ha fatto flop. Sulla panda nessun carico di valori. La vita da vigilante ormai è legata anche a rischi e pericoli, ci rivela uno dei componenti della Cosmopol. Per fortuna è andata bene, tutto apposto i colleghi stanno bene, si sono solo rotti un po' di mezzi. Questo è quello che facciamo tutti i giorni purtroppo. Abbiamo seguito tutte le procedure per cui i ragazzi stanno bene e sono riusciti a dileguarsi e andarsene. Avete paura perché fate un lavoro che purtroppo vi espone? Questo lavoro purtroppo è così. Chi porta questa divisa come me tutti i giorni deve sapere, deve capire che ogni giorno corre il rischio per il quale siamo pagati e lavoriamo.